E' un'estate che vede anche eventi molto importanti, per noi il batte di live è un fatto importante, portarlo a Biceglie dopo tanti anni, un evento che richiamerà tantissimo l'opinione pubblica e i turisti, ma soprattutto c'è la valorizzazione, quest'anno ho voluto nel nostro cartellone che segnala, la valorizzazione delle nostre spiagge. Ecco, il fatto che abbiamo voluto impostare la campagna comunicativa dell'estate bicegliese proprio sui nuovi ciotoli che abbiamo realizzato in una bellissima spiaggia bicegliese, quindi era un fatto anche sperimentale, era un nuovo modo di intendere proprio culturalmente i nostri beni naturali, quello di ripristinare dopo un affiattimento e l'abbruttimento dei lastroni degli anni scorsi, questi splendidi di ciotoli che sono una caratteristica della nostra città. Vabbè, anche quello sarà un fatto importante che fa la vita del turismo balneare, ma poi tanti tanti di quegli eventi che verranno illustrati nella conferenza stampa in modo specifico, di grande spessore anche culturale e di grande valore sociale per quello che riguarda anche la capacità di stare vicina alla gente che durante l'estate ha bisogno. Devo dire che in un momento di crisi economica il messaggio sociale che parte dalla città di di ciotoli è forse quello che a me preme rimarcare maggiormente perché significa che questa città ha una grandissima attenzione a quelle che sono le problematiche che la crisi economica crea chiaramente di grande bisogno e di grande necessità, ma che noi stiamo cercando di soffrire anche nel momento comunicativo come questo, perché stare vicino alla nostra città, creare offerte che siano alla portata di tutti, ma soprattutto dare anche, rivolvere il ricavato di alcune iniziative in favore di coloro che hanno in questo momento bisogno e hanno veramente delle emergenze anche di sopravvivenza, ma è un segnale importante che la città di Piceglie unisce come al solito tutte le fasce sociali e dà dimostrazione che coesione sociale, progresso, sviluppo e anche occupazione per quello che riguarda le risorse che comunque vengono destinate in modo proficuo anche per un momento anche di ricchezza nel nostro territorio, ecco questo momento di coesione rappresenta per noi il punto di riferimento per l'onestate che non si affine a se stessi sul canale del mercato di metto, ma che sia ricca di contenuti di mano. Grazie.